Si chiama Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Conta 11 municipi distribuiti su un'area di oltre 200 chilometri quadrati per una popolazione di poco inferiore ai 100.000 abitanti. È nato ufficialmente lunedì 4 ottobre, costituisce la prima esperienza del genere in Italia e spera naturalmente in tante imitazioni. Perché, come hanno detto al Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato e al Presidente della Commissione Statuto Carlo Alberto Tesserin, i primi cittadini degli 11 comuni, arrivati in Laguna per spiegare le finalità dell'iniziativa, lavorando assieme si può rispondere meglio alle esigenze e alle domande dei territori. Abbiamo attorato in noi la consapevolezza e la necessità di mettere assieme alcuni servizi al fine di realizzare delle economie di scala, per dare una risposta ai cittadini contenendo i costi e nello stesso tempo fornendo dei servizi veramente di alta qualità. A Ruffato e Tesserin i sindaci hanno sollecitato il riconoscimento in statuto di questi organismi, nella convinzione che tale scelta possa costituire una spinta notevole per incoraggiare tali percorsi amministrativi. Il Presidente Ruffato, nell'assicurare il proprio impegno per dare a queste associazioni di comuni gli opportuni spazi normativi nelle leggi regionali, a partire dallo statuto, ha osservato che una loro diffusione sul territorio potrà anche consentire di ripensare al ruolo e alla stessa sopravvivenza delle province. Aggregazioni come queste, aggregazioni territoriali importanti, fatte da federazioni di comuni, possono essere il passaggio per la suppressione delle province. Parliamo molto di eliminazione di questo ente intermedio. Si può fare esclusivamente se abbiamo nel territorio aree omogenee e vaste controllate direttamente dai comuni.